Un intervento artistico su un ulivo colpito da Xilella che nelle mani sapienti del maestro Ginoleo diventa il Rino Ceronte, un'opera d'arte che da oggi a San Donato è nel parco dello sport, della musica e della cultura. Ogni singola venatura esaltata dalla mano dell'artista dell'ulivo che ha ridato vita in questo modo alla pianta uccisa dal batterio, colpì di sgorbi e decisi per manipolare, creare figure e rinascere. Io quando ho visto questo pezzo da anni, volevo un pezzo di fare una cosa grande, quando l'ho visto disteso per terra così, io mi piangevo il cuore e ho detto perché mai, io ho lavorato sul collo solamente e poi ho lavorato sulla testa, già l'ulivo ti dà un segno molto particolare, già un segno che se c'è un amore, un affetto attraverso l'esperienza puoi fare delle grandi cose, come è uscito questo animale preistorico, come preistorico l'ulivo. Ci stanno pochissime persone che conoscono l'arte, l'arte la dobbiamo insegnare tutti quanti e l'arte la dobbiamo insegnare come ce l'hanno insegnato i maestri. A lui che ha donato l'opera a San Donato e al territorio intero la riconoscenza e la gratitudine dell'amministrazione. L'opera nasce proprio da un ulivo che era stato colpito dalla Xylella e che le mani sapienti appunto di Ginoleo hanno saputo ricreare, hanno dato vita, quindi è una rappresentazione anche un po' diciamo del ciclo della vita stessa con la rigenerazione e come da un qualcosa che era stato, che era appunto morto invece si è data nuova vita in una veste nuova. Una storia, quella dell'ulivo, già opera d'arte in natura che in ogni intreccio racconta quella del Salento, simbolo di pace, fertilità e prosperità. Far rinascere e dare vita agli olivi falcidiati dal batterio e promuovere il riutilizzo di quel legno nasce da quest'idea, sollecitata anche dai tanti artigiani, la proposta di legge del consigliere regionale Paolo Pagliaro perché il legno degli olivi colpiti dalla Xylella può diventare materia per alimentare la filiera artistica ed artigianale e l'industria del mobile locale anziché finire bruciato nei forni delle centrali a biomasse. Un riutilizzo che può rientrare tra le creazioni di prodotti a marchio albero d'olivo secolare della Puglia. Questo è un esempio, una delle tante possibilità che abbiamo per poter far rivivere i nostri meravigliosi alberi d'olivo secolare. Gino Leo è un esempio da seguire per le nuove generazioni perché l'artigianato, questo tipo di artigianato identitario può essere anche un veicolo importante per la crescita e lo sviluppo del territorio e per creare occupazione. Perché questo territorio si sta spopolando giorno dopo giorno e i ragazzi hanno bisogno di trovare nuovi impulsi e nell'artigianato di qualità sicuramente ci sono spazi enormi. Perché tra gli altri obiettivi non si interrompa la sapienza. In questa direzione il lavoro in regione senza schieramenti politici. La proposta di legge come primo firmatario Paolo è stata sostenuta da tutti noi e la stessa cosa è successo in altri ambiti, quando si è parlato di tradizione bandistica pugliese, quando si parla di feste patronali, quando parliamo di orchestre sociali. Siamo convinti e in commissione, la sesta commissione, diciamo che io mi onoro di presiedere, il lavoro è un lavoro congiunto di maggioranza e minoranza, ma è un lavoro di persone che ci tengono a questo territorio e cercano di disegnare una visione, un immaginario, un orizzonte e cercano anche di metterci la fatica della costruzione. Nella consapevolezza che è la cultura che crea il cambiamento, un dono prezioso che fonde, in questo caso, un luogo di incontro all'arte di un grande maestro. Abbiamo visto come attraverso la sua arte è possibile raccontare una storia del Salento che parte anche da una ferita degli ultimi anni che è quella della Xiella e di come si può raccontare attraverso l'arte la storia dei nostri olivi e tecniche straordinarie che il maestro Gino ci ha dimostrato. Un modo che sottolinea come il territorio sia capace di rigenerarsi, ripartire, reinventarsi senza mai tradire le proprie radici, radici forti come quelle degli olivi e di questi uomini che promuovono e vogliono tenersi stretta la cultura del legno d'ulivo. Affinché appunto il territorio recuperi dignità e affinché non ci sia un secondo ulivicidio, cioè distruggere i tronchi monumentali che pure dissecati però rappresentano la nostra storia, la nostra identità. Nuova vita agli olivi.